Innexta è una nuova esperienza del sistema camerale, le camere di commercio Union Camera hanno deciso poco più di un anno fa di fare una scelta strategica, cioè lanciare servizi per le piccole e medie imprese in tutta Italia nell'ambito della tecnologia digitale e della finanza. Quindi Innexta richiama proprio l'innesto della finanza nel digitale, servizi a disposizione delle imprese gratuitamente, perché questo è il compito delle camere di commercio, per far crescere la conoscenza da parte delle piccole e medie imprese italiane delle possibilità del digitale fintech e quindi di ottenere finanziamenti e l'atto offerta quindi delle imprese fintech che si consolidino, diano servizi reali, seri, importanti in tutta Italia. Innexta Score noi siamo orgogliosi di questa scelta di un premio perché è un riconoscimento di un sistema, di un tool, di uno strumento messo a disposizione delle imprese italiane dove ogni impresa, profilandosi nel nostro portale, può avere un ritorno nel giro di pochi secondi dello stato di salute, diciamo tra virgolette, della propria impresa o anche delle imprese concorrenti di un confronto, può fare un benchmark perché raccoglie i dati, Innexta Score raccoglie i dati dai bilanci delle imprese, li riclassifica, li analizza e rilascia un semaforo, un semaforo sintetico dove dà lo stato di salute delle imprese, tuoi fornitori, clienti o di te stessa. Noi vogliamo nell'ambito della finanza complementare, quindi digitale ma anche la finanza nuova di debito, non solo bancaria, vogliamo accompagnare, educare tra virgolette le imprese inizialmente lombarde ma poi anche di altre regioni a raccogliere risorse anche private, quindi non solamente dal lato bancario ma anche, perché no, da privati che vogliono investire e avere un loro giusto ritorno, quindi una canalizzazione su possibilità di finanziamento alternativo. Innexta Bond ha questo obiettivo, nel corso del 2020 noi riteniamo di raccogliere diciamo un primo taglio da 5 milioni da distribuire sulle imprese lombarde.